In quella vasca, Kaharoth riacquisterà presto i pieni poteri. Ma tu ne sei sicuro? Una... una siringa! No, 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 no! Non voglio fare la puntura, Krillin! Portami via di qui, ti prego, no! Non voglio, ho paura! No, 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 no! Krillin! Secondo te utilizzerei dei metodi antiquati come le punture, ignorante! Niente puntura? Oh, papà, che vergogna!